Rubinetti a secco martedì 7 in città sarà interrotta l'erogazione idrica a causa di alcuni lavori che dovranno essere effettuati all'acquedotto Ancipa. Dunque per un giorno saranno serviti soltanto il carcere e l'ospedale per ciò che riguarda il capoluogo. A Mazzarino la distribuzione subirà un ritardo di 24 ore, a Riesi la distribuzione avverrà regolarmente. Nelle zone marine sarà invece interrotta. Caltacqua garantirà l'approvvigionamento idrico alle utenze sensibili attraverso il servizio di autobotti.